come promesso eccovi un video dedicato esclusivamente alla parte di pregi e difetti riscontrati durante il mio periodo di prova a bordo di questa nuova hyundai tucson aggiornamento restyling di metà vita 2024 per tutti quelli che navigando su youtube hanno trovato questo video l'anno aperto vi comunico che sul canale trovate la prova completa della hyundai tucson dove abbiamo analizzato come si guida l'auto come è stata aggiornata in questo restyling e come si usa nel quotidiano oltre ad aver fatto un focus anche su come scegliere le motorizzazioni quindi andatevi a vedere quel video magari ve lo lascio qui sopra o sotto in descrizione questa è una parte dedicata esclusivamente a fare un riassunto fare un focus dettagliato sulla parte di pregi e difetti della vettura parto come sempre dalla parte dei pregi che ci accompagneranno fino a circa metà video per poi passare i difetti direi di iniziare come già visto nella prova completa dal pregio numero uno che è la disponibilità motorizzazioni i coreani ragazzi stanno lavorando bene perché offrono motorizzazioni davvero per tutti cosa che piccolo inciso che non c'entra niente anche le case automobilistiche italiane se esistono ancora case automobilistiche italiane dovrebbero imparare a fare perché questa hyundai tucson è disponibile con tutte le motorizzazioni possibili ed immaginabili ad oggi non c'è una variante elettrica ma sono sicuro che a pochi di voi potrebbe importare di una versione così 100% full electric troviamo come abbiamo visto il motore mild hybrid benzina da 160 cavalli troviamo questo full hybrid da 215 cavalli quindi un ibrido con logica di funzionamento full hybrid troviamo un altro ibrido con logica di funzionamento plug in quindi con una batteria più grande da poter ricaricare a casa che per chi vuole sfruttare la ricarica domestica per chi ha un po più di budget visto che è la tucson che costa di più per chi magari ha un impianto ad energia solare con delle batterie d'accumulo potrebbe essere una scelta interessante nella prova completa vi ho già spiegato quale sceglierei io e in più c'è anche il nostro buon vecchio mild hybrid diesel da 136 cavalli che per chi dovrà fare contesti veloci come l'extraurbano o l'autostradale per una grossa fetta della propria percorrenza potrebbe essere il motore ideale fate le vostre valutazioni secondo pregio della vettura la disponibilità tendenzialmente il funzionamento della tecnologia a bordo nella prova completa ragazzi vi ho parlato del climatizzatore di come funziona questo climatizzatore io ho spiegato perché secondo me è un sistema intelligente nell'utilizzo qualche personaggio i soliti fenomeni sono arrivati con i soliti modi incivili e estremamente arroganti questo mi ricordo soprattutto nel video vecchio dichiarando che l'impianto della climatizzazione della Tucson è un impianto che ha problemi e io lo so e non ve lo dico ovviamente questi fenomeni sono stati eliminati sono stati mandati a casa cancellati dal canale perché chi utilizza linguaggi non appropriati a relazionarsi con gli altri viene dal sottoscritto buttato fuori dal canale soprattutto se è un atteggiamento che si ripete per molte volte nel tempo per come vi posso parlare io nel mio periodo d'utilizzo vi posso dire che il climatizzatore si è comportato davvero bene perché ha tanta forza ha ottime logiche di intelligenza e ha un paio di sistemini quello che riesce a abbinare i sedili ventilati e riscaldati alla temperatura e il fatto che vi accende i circoli e vi alzi i finestrini in caso di entrate in gallerie che secondo me sono molto comodi se voi che avete utilizzato l'automobile per anni e decine di migliaia di chilometri volete segnalarmi che mi sto sbagliando e probabilmente il climatizzatore non funziona come penso io scrivetelo tranquillamente qua sotto nei commenti parliamone lasciate un feedback a tutta la community altro accessorio da segnalare parlando della tecnologia di bordo il sistema di infotainment ragazzi questo sistema di infotainment è arrivato tranquillamente al passo dei sistemi infotainment più recenti prodotti in europa troviamo le stesse funzionalità bene o male la stessa fluidità viene aggiornato over the air quindi a distanza diciamo così e soprattutto cosa mi è piaciuto è l'unica automobile credetemi recente che ho provato ma vi posso parlare tranquillamente dell'ultimo anno anno e mezzo che riesce a stabilire ogni volta che salgo in automobile una connessione stabile con il mio telefono cellulare ragazzi come ben sapete ho un iphone chi ha iphone sa che con le automobili moderne in tanti casi il pairing l'abbinamento funziona bene la prima volta poi già dalla seconda volta si perde non so se succede solo a me o succede anche a voi questa è l'unica automobile che riesce a stabilire una connessione costante ogni volta che salgo a bordo sia utilizzando il bluetooth sia utilizzando il carplay non ne sbaglia una ripeto non ho memoria di aver visto un'automobile così stabile nel segnale così puntuale nell'agganciarmi il telefono cellulare poi qui a bordo troviamo i sedili con regolazione elettrica troviamo di fare a matrice di led che funzionano davvero bene trovate un sedile che scorre avanti e indietro quando salite e scendete dall'automobile sono davvero tanti gadget non vi ho detto il climatizzatore non è che funziona solo bene è pure trizona perché c'è la temperatura dedicata anche a quelli dietro questo è il secondo aspetto secondo me da citare quando si parla di pregi della vettura quindi l'avanzamento tecnologico terzo aspetto i consumi dell'auto come ben sapete io sto utilizzando un'automobile dotata della tecnologia full hybrid e quindi mi sarei aspettato un consumo notevole un consumo buono infatti è così quest'auto è dotata di un 1.6 turbo benzina da 160 cavalli più una parte elettrica alimentata da una batteria da 1,5 kilowattora di capacità 215 cavalli totali che quanto consumano come vi ho detto nella prova completa si riesce ad arrivare con un utilizzo in economy run gestendo il gas strada pianeggiante in extraurbano anche a 25 chilometri al litro il vostro medio con un utilizzo normale si attesterà sempre tranquillamente tra i 18 e i 20 chilometri al litro chiaramente sempre dipende dal contesto e dal vostro piede però è tendenzialmente un'auto che beve poco quarto aspetto quando si parla dei pregi della vettura che è l'aspetto che racchiude tutto il prodotto hyundai tucson è il prodotto appunto a 360 gradi la completezza ragazzi questa è un'automobile che fondamentalmente ha tutto so che l'estetica potrà piacervi o meno me l'avete già scritto nei commenti esattamente come mi sarei aspettato vogliamo tralasciare l'estetica ha comunque una qualità di marcia un comfort di marcia che come voi mi avete segnalato nei commenti sotto il vecchio video secondo alcuni di voi è superiore anche ad alcuni prodotti tedeschi mi avete segnalato audi e mercedes e per alcuni aspetti posso darvi ragione silenziosità ai massimi livelli l'interno secondo me a livello di ergonomia è bello ed è ben rifinito a livello di materiali ci sono tante motorizzazioni che in europa per esempio non ci sono come le full hybrid il prezzo è comunque inferiore rispetto a un'automobile premium europea c'è spazio a bordo c'è tecnologia c'è una garanzia solida offerta dalla casa in termini di prodotto ragazzi è un prodotto completo a 360 gradi ecco perché ha fatto record di vendite nei mesi passati ora sta vendendo la sorella kia sportage che è il primo posto nel mondo dei c-suv ma negli ultimi periodi ci sono alternati quest'auto e la kia sportage perché il contenuto c'è e chi non l'ha ancora capito dovrebbe capire che sarebbe ora di farsi un po' una cultura anche su automobili orientali e iniziare ad aprire gli occhi ragazzi siamo arrivati a metà video si parte con la parte dei difetti a bomba prima di fare ciò non dimenticatevi di lasciare un like sotto questo video se il contenuto è di vostro gradimento e non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto grazie mille difetti dell'automobile vediamoli insieme partirei da quelli che hanno un po' meno importanza per finire poi a quelli che hanno più importanza quelli che sentirete di più durante l'utilizzo una cosa che vi voglio segnalare il poco spazio nella tasca delle portiere come abbiamo visto questo interno grazie a questo restali ha aumentato la propria disponibilità di vani portoggetti e spazio tranne che nelle portiere dove la situazione rimane bene o male abbastanza critica le tasche delle portiere sono strette un bottiglione non ci starà tanto meno mio borracione da un litro riuscirete a mettere esclusivamente la bottiglietta dell'acqua da mezzo litro poi comunque sono profonde non sono floccate hanno poca visibilità all'interno della tasca insomma non il top altro aspetto da segnalare la sensibilità dell'auto alle ripartenze come vi ho detto nella prova completa quando vi ho citato la parte elettrica la parte elettrica è un grande vantaggio perché vi consente di marciare come sto marciando io adesso sono in modalità elettrica il motore spento c'è silenziosità totale e comfort totale ma quando sarete fermi e dovrete ripartire da uno stop o da un semaforo l'automobile è molto sensibile al gas quindi ci sarà da abituarsi un attimo perché il pedale dell'acceleratore sarà esclusivamente da sfiorare se lo premerete un po' troppo violentemente l'automobile partirà in avanti scaraventandovi con un discreto livello di violenza quindi un aspetto del quale bisogna prendere un po' il piede terzo aspetto da citare in termini di difetti e limiti dell'automobile se salirete su un passo di montagna quando andrete a scendere dopo due tornanti dopo pochissimo spazio dopo pochissima strada fatta la batteria si sarà già ricaricata perché è una batteria piccola questo è un po' il limite che hanno tutte le vetture ibride magari tranne le plug-in a differenza delle vetture elettriche quando salite su un passo di montagna con un'elettrica sarete sicuri di recuperare una buona fetta dell'energia che avete speso per salire durante la fase di discesa su quest'auto è come su tutte le full hybrid e peggio ancora le mild hybrid succede un'altra cosa quindi comincerete a scendere farete a malapena un chilometro la batteria sarà già carica non avrete più il freno motore offerto dalla frenata rigenerativa tant'è vero che l'automobile ve lo dice con un messaggio quindi dovrete basarvi esclusivamente sulla forza sulla possibilità di usare l'impianto frenante per frenare quest'automobile fate le vostre considerazioni ultimi aspetti negativi che secondo me sono quelli più macro sono quelli più consistenti che sentirete di più e sono legati secondo me alle logiche di funzionamento di questo cambio automatico come vi ho detto nella prova completa questo cambio automatico non è un cambio sportivo è un cambio rilassante è fatto per viaggiare in assoluta pace e morbidezza detto ciò però vi voglio segnalare che nelle fasi di salita quindi se andrete a utilizzare in salita l'automobile tende a tenere i rapporti un po più del dovuto anche se l'ho trovato meno sbilanciato verso il mantenere i rapporti rispetto alla vecchia versione di tucson l'ho trovato comunque un po più intelligente l'ho trovato siamo intelligente al pari di alcuni dsg su alcuni modelli che tendono anche in quel caso quando siete in salita vi parlo di dsg del gruppo volkswagen a mantenere i rapporti per troppo tempo in questo caso durante alcune salite l'avrei voluto un pochino più fluido perché mi tira al motore fino a 3.000 4.000 giri senza senso cosa si può fare in quel caso altro piccolo limite dell'automobile si possono cambiare i rapporti della vettura con le palette al volante ma non nella modalità eco dovrete mettere l'automobile in modalità sport perché in eco utilizzando le palette si può gestire esclusivamente la parte di rigenerazione quindi la quantità di frenata rigenerativa se vorrete voi andare ad intervenire sui rapporti io non ho trovato altro modo che mettere cambiare la modalità di guida e mettere la vettura in sport cosa che è un po un limite perché tralasciando la parte di salita ma magari ogni tanto volete un pochino di spunto volete fare un sorpasso va bene che potete schiacciare semplicemente il pedale del gas ma magari volete gestirvi voi il cambio in sequenziale questa cosa se siete in modalità eco non la potete fare ultimo aspetto da citare sempre legato al cambio il fatto che come avete visto ora per selezionare i rapporti non dovrete più andare a gestirvi i bottoni sul tunnel centrale come nella vecchia Tucson ma avete questa leva sul piantone dello sterzo che secondo me è molto pratica perché non vi distrae dalla guida e l'avete subito qui disponibile l'aspetto che voglio citare è legato al fatto che i rapporti riuscirete a innestarli solo ed esclusivamente quando sarete completamente fermi con il freno premuto cosa significa vi faccio un esempio siete in centro abitato avete del traffico dietro di voi quindi dovete fare una manovra abbastanza svelta su tante altre automobili vi basta uscire dal parcheggio inserendo la retro poi per mettere la d e andare avanti tendenzialmente anche se l'automobile non è completamente fermo non avete il freno completamente schiacciato girate il pomello la mettete in d e ve ne ripartite con questa Hyundai Tucson dovrete assicurarvi di essere completamente fermi perché sennò la marcia non verrà ingranata quindi se state facendo una manovra un po rapida un po lesta dovrete gestirvela bene perché non sempre questo comando prende diciamo la marcia che vorrete ingranare ragazzi non ho trovato altre grosse problematiche nell'utilizzo di quest'auto tendenzialmente tutto quello che vi ho detto anche in termini di difetti non vi va a precludere una guida fatta con qualità e tranquillità qualcuno di voi mi ha citato i sistemi di assistenza alla guida io non posso dire niente io non sono un fruitore dei sistemi di assistenza alla guida utilizzati massivamente utilizzo principalmente uno fra tutti il cruise control che in questo caso è adattivo e funziona molto bene tutti gli altri li uso relativamente poco a meno che non sono su tratta autostradale dove magari attivo anche l'autosterzatura aspetto da considerare il fatto che per disattivare il line assist che si riattiva tutte le volte come abbiamo già visto sulle vetture moderne tengo premuto il tasto con il volante sulla razza appunto del volante tengo premuto due tre secondi lui si disattiva per disattivare il lettore di cartelli stradali che continua a bippare soprattutto sulle Hyundai come ben sappiamo ho personalizzato l'altro tasto con la stella sulla razza del volante lo premo entro nel mio preferito che è la schermata dei sistemi di assistenza alla guida disattivo il bip e la mia automobile come sentite da questa prova non bip praticamente mai è un'operazione da fare tutte le volte assolutamente sì ogni volta salendo a bordo tengo premuto questo premo questo disattivo il lettore di cartelli stradali dopodiché l'automobile sarà completamente muta signore avrete capito che questa Hyundai Tucson 2024 mi è piaciuta molto e utilizzandola ho capito perché è stata venduta in grande quantità sul territorio nazionale italiano andatevela a provare consiglio che vi do in strada superate e andate oltre ai luoghi comuni alle chiacchiere da bar e ai preconcetti legati alle case automobilistiche orientali che ormai ripeto un'altra volta non esistono più e chi ha ancora queste credenze è totalmente fuori dal mercato automobilistico odierno fatemi sapere cosa ne pensate di questo video se siete d'accordo con me o se volete segnalarmi altri aspetti da citare su questa Hyundai Tucson noi ci vediamo nel prossimo video nel prossimo test drive nella prossima prova su strada ciao ragazzi